bucca bucca riceve caspidatina OITI waltby sarium ooohh Ma devi fare una copia Non cominciare Signore, direi che Papua è su taleba Scusi? Su taleba, Papua è su taleba E non fatti il suo Allora, Papua è su taleba, su taleba Allora, ma... Oh signore! Oh signore, sto morendo! Signora? Fin... Signora? Signore, madonna, nero Lorenzo, Lorenzo, guarda, c'è la signora che sta male Allora, mi dica il numero 3, 2, 0 700 521 Mi chiama? No Va bene, grazie Oh yeah!